61 la sua necessità qual è la funzione della famiglia commento la famiglia ha la funzione di aggregare le persone in rapporti di amore oltre a quella di educare le nuove creature che si incarnano la sua necessità è stata dettata dall'insufficiente evoluzione dell'umanità che vive la condizione umana per i maestri la funzione dell'attuale famiglia continuerà ad essere ridimensionata di pari passo con l'evoluzione raggiunta dall'umanità incarnata che come già avviene imporrà sempre di più la famiglia del futuro tale famiglia riunirà tutti quelli che a diverso titolo si ameranno e i figli di uno saranno i figli di tutti